italia che cazzo di squadra è quella non lo so però vabbè nir cazzo di squadra era vabbè andiamo a vedere facciamo la partita anzi nuovi acquisti disponibili prima facciamo donna denaro ai centri sportivi giornali giovanili irlanda del nord ecco cos'era chi dammela dammela me che cazzo fa recuperiamo subito palla dai al centrocampo subito attacchiamo 12 veloci 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 tutti in attacco dai vediamo se riesco a superarlo porca troia attenzione recupero la palla e me la faccio recuperare di nuovo subito peccato porca troia ci provo me la para provano a pareggiarla attenzione difesa molto aperta ci provo trovo il difensore subito vai subito me la passata purtroppo ho sbagliato ho sbagliato dovevo tirare da lì non passare c'è la prossima in mezzo vediamo se ci arriva però passaggio fa schifo ci provo mamma mia che tiro di merda c'è la difesa io ho aperto sempre palla andiamo a chiudere sto primo tempo in attacco dai tori oh 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 oh